E' molto probabile che anche tu, come molti, arrivato il 10 gennaio abbia dimenticato o messo da parte i famosi buoni propositi. Succede veramente a tante persone perché giorno dopo giorno la routine si fa sentire e si incominciano a fare le cose di sempre. Ci sembra abbastanza normale, è normale, ma non è detto che sia giusto, non è detto che non si possa fare diversamente. In questo video voglio passarti il mio metodo in 5 punti per andare oltre i buoni propositi e far sì che invece si possano avere su LinkedIn dei buoni risultati, degli ottimi risultati. Chiaramente su LinkedIn perché se guardi questo video è perché per te LinkedIn è importante per la tua carriera, per il tuo lavoro, per il tuo successo, vuoi finalmente ottenere risultati con LinkedIn attraverso il tuo profilo, attraverso la tua pagina, con le ads, qualunque sia il tuo approccio a LinkedIn in questo metodo può aiutarti. E quindi mettiamoci al lavoro e vediamolo subito quali sono i 5 punti. Il primo è quello di fare una valutazione delle migliori cose, dei migliori risultati dell'anno appena passato. Anche una valutazione più emotiva in questo caso, non ci servono per forza i dati ma le cose che sono state più gradite. Il secondo aspetto invece è quello dei dati, quindi fare un'analisi precisa di tutto ciò che è stato fatto e di ciò che ha portato in termini di risultato. Il punto 3 è quello di crearsi a questo punto degli obiettivi raggiungibili alla luce dell'anno appena trascorso, obiettivi concreti e misurabili per l'anno nuovo. Il punto 4 è quello di andare a fare il piano di lavoro per l'anno, quindi cosa devo fare, in che modo, in che quantità per raggiungere l'obiettivo desiderato alla fine dell'anno o quando ho stabilito che debba essere raggiunto. Il punto numero 5 è quello di far sì che queste cose diventino un'abitudine condizionandola propriamente, misurare sempre ciò che si sta facendo e cosa sta portando e correggere se serve il piano di lavoro ed eventualmente ridefinire, riallineare l'obiettivo. Bene, allora andiamo un po' più in profondità di questi 5 punti perché dietro a ciascuno di questi ci stanno dei dettagli, un modo di applicarli. Quello che ti sto per raccontare nasce da anni di esperienza che ho fatto sul mio profilo, sulla mia pagina aiutando decine di aziende in questi anni e centinaia di persone a ottenere risultati desiderati con LinkedIn. Infatti il primo punto è un punto che ti potrebbe sembrare un po' strano perché ho detto di valutare i migliori risultati anche un po' a sentimento. Ebbene partire da un po' di festeggiamento di ciò che abbiamo fatto e anche emotivamente connetterci alle cose che ci piace fare su LinkedIn, oltre a quelle che sono giuste e funzionano, non vanno mai perse completamente di vista. Quindi riscorrendo un po' il tuo feed, riguardando il tuo profilo LinkedIn, guardando la messaggistica, prova ad andare a prendere delle cose di cui puoi dire, caspita ho fatto quella cosa, sono rimasto particolarmente soddisfatto, colpito. Magari anche al di là del risultato ho provato un senso di soddisfazione nel farlo perché penso che sia la cosa giusta e magari voglio ovviamente far rifarla o ripetere un'esperienza simile. Mettimi in un angolino ma sono cose molto importanti anche perché magari hai fatto un frammento di quello che avresti voluto nell'anno precedente ma qualcosa di buono sicuramente l'hai fatto e bisogna sicuramente ancorarsi anche emotivamente alle cose buone e positive. Poi però arrivano i dati, punto 2, non possiamo eludere chiaramente i dati e qui è il momento di fare una bella review dell'anno passato, che sia per il profilo, che sia per la pagina, fondamentalmente non cambia. Guarda a che livello hai completato e perfezionato la presenza del profilo della pagina, fai un'analisi dei collegamenti o dei follower, quanti sono, come sono cresciuti, sono quelli giusti, la loro qualità, fai un'analisi dei post, quanti nei fatti, che tipo di risultati hanno avuto in termini di visualizzazioni, di click, di commenti, di percentuale di interesse. Se stiamo parlando di una pagina quel dato è in chiaro, se parliamo del profilo lo si può calcolare in modo approssimativo con una piccola formula. Cerca di farti una tabella, io uso Excel, in generale un foglio di calcolo per mettere tutti questi dati e capire che cosa è stato effettivamente efficace. Puoi analizzare i messaggi che hai mandato, puoi analizzare i lead, le opportunità, i colloqui di lavoro, dipende qual era il tuo obiettivo nell'anno che è appena passato e quindi fai un bel piano di tutto ciò che hai fatto e di ciò che ha portato. Ora guardando quest'ultimo foglio di calcolo e i risultati del punto 1, quelli un po' più emotivi, fai una prospettiva per il 2022 ponendoti degli obiettivi realistici. Vorrei ottenere questo tipo di risultato in termini di visualizzazione di post, di numero di post scritti, di nuovi contatti interessanti, di colloqui, di appuntamenti con i clienti, magari anche di fatturato, non lo so, di notorietà, di connessione, di circolo di persone con cui essere connessi. Poniti quindi un obiettivo che sia molto chiaro, che sia specifico, che sia misurabile e che abbia un'altra discadenza la fine dell'anno o se serve chiaramente anche prima. Quello sarà il tuo obiettivo da tenere sempre a mente. Dall'obiettivo possiamo a questo punto fare il piano di lavoro, che è il nostro quarto punto. Dobbiamo spezzettare, anzi prima ancora dobbiamo prevedere tutto quello che c'è da fare per raggiungere l'obiettivo e poi andare a spezzettarlo e metterlo nella nostra linea del tempo. È chiaro che se voglio arrivare a un certo punto di risultato alla fine dell'anno serviranno una serie di azioni da fare anche alla luce dei risultati. dell'anno passato puoi capire quali sono e quanti sono e con questo dato puoi andare a spalmarli durante l'anno. Ti suggerisco di cercare di avere dei milestone, cioè dei momenti che possono essere i trimestri o i mesi, talvolta anche la settimana, ma per dei milestone il mese, il trimestre può andare bene, cioè dei punti di controllo in cui dovresti trovarti a un certo punto, in una certa fase per andare verso l'obiettivo finale. E quindi puoi fare un piano se perché ogni settimana vuoi fare un post o due post o vuoi organizzare un live streaming una volta al mese o che ogni mese vuoi accrescere la tua base di follower o di collegamenti di X persone in target o che vuoi ottenere contatto con un certo tipo di persone almeno una volta ogni settimana per esempio. Fai un piano e a questo punto scriverlo nel dettaglio. Qui l'errore che tutti io per primo ammetto facciamo è di strafare. Quando siamo alla scrivania e scriviamo sul nostro taccuino, sul nostro foglio di calcolo, ci sentiamo dei supereroi. Mettiamo mille cose da fare e poi ne facciamo un frammento e comunque va bene ma magari proviamo un po' di frustrazione. Cercate di non esagerare. Mettete l'essenziale e poi magari togliete neppure un 20-30% e poi quello però cercate di farlo tutto. Quindi misurate le energie che avete a disposizione, il tempo che avete a disposizione per fare le cose o eventualmente i supporti, le risorse che potete mettere in campo in termini di team, di professionisti che vi aiutano, di tool da utilizzare. Bene, siamo già al 10 di gennaio, anzi magari quando guardi questo video anche oltre, per cui bisogna subito mettersi al lavoro con questo piano. Una cosa da non dimenticare, perché è qua che poi ancora si rischia di fare l'errore madre, è quello di non far sì che tutte queste azioni entrino nella routine. La routine è quella cosa che può farci abbandonare gli obiettivi, ma è anche quella che può far diventare gli obiettivi qualcosa di molto concreto e quotidiano nella nostra vita. Quindi dobbiamo condizionarci, la parola è condizionarsi psicologicamente, far sì che, poiché facciamo sempre le cose per esempio alla stessa ora, nello stesso giorno, perché ci creiamo uno spazio fisico, ma potrebbe essere un taccuino ad hoc, potrebbe essere una cartella sul desktop dove mettiamo le cose, facciamo sì che ci siano una serie di elementi software, diciamo virtuali o fisici attorno a noi, che ci portano a fare le cose con un certo automatismo. All'inizio dovremo un po' spingerlo, e poi diventerà sempre più automatico. Quindi condizionatevi e quindi potete settimana dopo settimana, mese dopo mese, trimestre dopo trimestre, misurare se state facendo quello che era previsto nel piano e se siete in linea con l'obiettivo, i milestone che dicevo prima. Misurate e se serve correggete il piano di lavoro, perché vedete che state andando più veloce del previsto, fantastico, mettete prima l'obiettivo o magari ingrandite l'obiettivo o potete cambiare un pochettino il vostro piano di lavoro, vedete che non ce la fate, vi serve un aiuto, dovete ridurre, aggiustate sempre. È importante farlo almeno mensilmente, questo lavoro, se siete proprio super esperti, avete molto autocontrollo, anche trimestralmente siete dei super all'inizio, magari all'inizio anche settimanalmente. A me piace avere questo foglio con l'obiettivo, col piano di lavoro, se possibile stampato o comunque in un file sul desktop e guardarlo, buttagli un occhio almeno settimanalmente, però le valutazioni mensilmente vanno sicuramente bene. Quindi chiudendo e riassumendo, l'obiettivo è far sì che il 2022 sia un anno di successi e risultati su LinkedIn e il metodo che vi ho proposto è in 5 step. Valutare ciò che avete fatto, i vostri migliori risultati del 2021. 2. Analizzare i dati precisi di quello che avete fatto su LinkedIn e di cosa vi ha portato. 3. Definire degli obiettivi realistici, specifici, misurabili. 4. Fare un piano di lavoro molto dettagliato senza strafare. 5. Condizionarsi per farlo diventare una routine, misurare ciò che si sta facendo, i risultati e correggere se serve. Io sono felice di aver passato questo piccolo know-how perché è quello che applico per me, per la mia società, che applico con i clienti. Lo applico su LinkedIn ma in realtà lo si può applicare in generale nella vita e quindi sono convinto che se seguito e magari adattato alla propria situazione potrà darvi un grande risultato per questo nuovo anno e quindi il mio augurio è proprio che sia un anno di grandi risultati. Nei commenti puoi scrivermi qual è il tuo obiettivo su LinkedIn per il 2022 e confrontiamoci e sarò felice di fare il tifo affinché tu lo possa raggiungere.